Salve a tutti, vi voglio parlare di quello che è il nostro programma elettorale, per lo meno la sintesi, i punti fondamentali del nostro programma, costruito insieme con le persone che fanno parte del gruppo civico per Castel del Forte. I punti fondamentali sono proprio riassunti in quello che è il volantino che noi distribuiremo alle famiglie, ai nostri concittadini. Quello che è l'intenzione del nostro gruppo, dei nostri candidati, è quello di essere più vicini alla gente. Più vicini alla gente vuol dire aiutare i nostri concittadini. Questa è la parte fondamentale del nostro programma, la vicinanza. Aiutarli come? Attraverso provvedimenti che noi andremo a intraprendere nel momento in cui noi entreremo, se vinceremo le elezioni, entreremo in carica. Provvedimenti che vanno nel senso di favorire le famiglie, cercare di aiutare chi ha perso il posto di lavoro e cercare di aiutare quelle aziende in difficoltà che hanno bisogno per poter andare avanti.